Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di No Edit. Rigorosamente audio e basta. Voglio subito riprendere il racconto della seconda parte del racconto intitolato La Mensa perché non vedo l'ora di vedere e di sapere come finisce. Sorso di caffè, iniziamo. Smise di essere un'estranea, molto rapidamente, quando vide il coltello nella mano del mietitore. Gin si rigidì e fissò la lama scura. Cercò di trattenere il respiro, ma non poté smettere di ansimare. Il cuore le sembrava un martello che cercasse di aprirsi una via di fuga dal petto. No, farfugliò lei. Ti prego. Lui sorrise. Sapevo che ti essaresti messa a implorare. Non ti ho mai fatto nulla. Ma ora stai per fare qualcosa per me. Il coltello si avvicinò, sentì la lama fredda sulla pelle, ma non provò dolore. Non tagliò. Non gin. Tagliò invece i suoi indumenti, le spalline del reggiseno, le maniche della camicetta, la cintura della gonna. L'uomo portò gli indumenti verso il fuoco. No, non farlo. Lui sorrise e li lasciò cadere sulle fiamme. Non ti serviranno. Tu resterai qui. Qui alla mensa. Da qualche parte, in lontananza, un coyote urulò. Quello è il mio amico. Abbiamo un accordo. Io lascio qui un pasto per lui e i suoi compagni della foresta e loro fanno le pulizie al posto mio. Con le mie truppe non ho problemi di tombe o sepolture. Io ti lascio qui e domani non ci sarai più. Arriveranno come tanti bravi soldatini affamati e lasceranno la mensa pulita in ordine per la prossima volta. Nessun problema e nessuna preoccupazione. E tu, dolcezza, potrai risparmiarti l'imbarazzo di dover tornare al campus con il culetto di fuori. Accovacciandosi accanto al fuoco, aprì la cassetta degli attrezzi. Ne tirò fuori un paio di pinze e un cacciavite. Posò le pinze su un sasso pulito, su un sasso piatto, e impugnò invece le cacciavite. La punta metallica era già anerita prima ancora che lui la tenesse sopra il fuoco. Jean vide le fiamme arricciarsi intorno al metallo accuminato. No, gridò, ti prego. No, ti prego, le fece il verso lui. Sorridendo fece ruotare il cacciavite nel suo pugno. Credi che sia già pronto? Scrollò la testa. Diamogli ancora qualche minuto. Non c'è bisogno di affrettare le cose. Ti stai gustando l'attesa? Bastardo! E questo è il modo di parlare? Aiuto! Urlò lei. Aiuto! Vi prego, aiutatemi! Non ti sentirà nessuno all'infuori dei coiote. Non puoi fare una cosa simile. Certo che posso. L'ho già fatta parecchie altre volte. Ti scongiuro. Farò qualunque cosa. So già cosa farai. Urlerai, ti dimenerai, piangerai, tirerai calci, implorerai, sbaverai, sanguinerai. Non necessariamente in quest'ordine, è ovvio. Si rialzò. Le pinze in una mano e il cacciavite nell'altra. Avanzò lentamente verso Jean. Dalla punta del cacciavite si alzavano leggeri sbuffi di fumo bianco. Si fermò di fronte a lei. Ora vediamo. Da dove comincio? Ci sono tante zone di prima qualità fra cui scegliere. Alzò il cacciavite verso il suo occhio sinistro. Jean girò di scatto il viso. La punta si fece più vicina. Lei chiuse l'occhio. Sentì il calore contro la palpebra. Ma il calore si affievolì. No, meglio tenere questo per dopo. In fondo per te buona parte del divertimento starà nel guardare. Lei lanciò un urlo e si rigidì mentre qualcosa le bruciava il ventre. Il mietitore scoppiò a ridere. Jean guardò in basso. Lui l'aveva semplicemente toccata con la punta delle pinze. Potenza della suggestione. E adesso vediamo come te la cavi con un po' di dolore autentico. Lentamente avvicinò il cacciavite al suo seno sinistro. Jean cercò di tirarsi indietro ma le manette glielo impedirono. Provò allora a scalciare. Lui evitò il calcio con una torsione del busto. Mentre il bordo della sua scarpa gli sfiorava l'anca, lui le toccò la coscia con il cacciavite. Lei urlò. Lui sogghignò. Non riprovarci, tesoro. O potrei arrabbiarmi. Singhiozzando, lei lo guardò accostare di nuovo il cacciavite al suo seno. No, non farlo, ti scongiuro. Una pietra colpì alla tempia il mietitore. Gli fece ruotare il capo. Rimbalzò, graffiò la scela di Jean e cadde a terra. Lui rimase immobile per un istante. Poi crollò sulle ginocchia e si afflosciò in avanti, con il viso premuto contro l'inguine di Jean. Lei si spostò e lui piombò a terra al suo fianco. Lei rimase a fissarlo. Incapace di credere che lui fosse veramente disteso là. Forse era svenuta e questa era solo una sua fantasia. Stava sognando e ben presto si sarebbe svegliata con una sferzata di dolore e... No, pensò, non può essere un sogno. Ti prego, signore. Un angolino appartato della sua mente sussurrò. Lo sapevo che ne sarei uscita. Cercò intorno chi poteva aver lanciato la pietra e individuò una forma confusa accanto a un albero sul lato opposto dello spiazzo. Lo hai preso! Grazie a Dio lo hai preso! Un lancio magnifico! La forma non si mosse. Non le rispose. Si voltò. No! Urlò Jean. Non andartene! Riprenderai i sensi e mi ucciderà! Ti prego! Sono ammanettata qui! Lui ha la chiave in tasca! Devi aprire le mie manette! Ti prego! La figura, indistinta nel buio non meno dei cespugli e degli alberi intorno a lei, tornò a voltarsi e si mosse. Avanzò zoppicando verso il chiarone del fuoco e dalle sue forme Jean capì che era stata una donna a salvarla. Altre donne cominciarono ad apparire ai bordi dello spiazzo. Una uscì da dietro un albero, un'altra si alzò ad alcuni cespugli. Jean colse un movimento sulla destra, si girò e vide una quarta donna. Udì un ringhio alle spalle, si contorse per voltarsi e restò a bocca spalancata la vista di qualcuno che strisciava verso di lei. O verso il mio titore, sperò. Al chiarore vacillante del fuoco la parte superiore della sua testa sembrava nera e priva di capelli. Come se fosse stata scotennata. Su un lato della schiena la pelle era stata strappata e Jean intravvide pallide costole ricurve prima che lei si spostasse. Ora ne aveva davanti cinque, che avanzavano ed erano ormai abbastanza vicine al fuoco perché lei potesse vederle chiaramente. Jean le fissò e di nuovo staccò i contatti. Uscì dal proprio corpo, divenne un'aspettatrice. Quella che aveva lanciato la pietra aveva una cavità nera al posto dell'occhio sinistro. La ragazza manettata sotto l'albero si meravigliò che una persona con un occhio solo fosse riuscita a scagliare una pietra con tanta precisione. La cosa era ancora più sorprendente perché la persona in questione era indubbiamente morta. Dal ventre le penzolavano tratti d'intestino che le oscillavano fra le gambe come il perizoma di un pelle rossa. Della sua gamba destra, al di sotto del ginocchio, non restava altro che osso. Opera delle truppe forestali del mietitore? Come può camminare? Questa è buona, pensò la ragazza appesa all'albero. Come fanno a camminare? Una di loro, che doveva trovarsi lassù da molto tempo, riusciva ad arrancare senza eccessive difficoltà, nonostante entrambe le gambe fossero ridotte a poco più che ossa spolpate. Le truppe avevano davvero banchettato a sue spese. Un braccio mancava del tutto. L'altro si interrompeva il gomito ed era solamente osso. La poca carne rimasta sul corpo or appariva nera e gonfia. Una parte del torace era intatta ma incavata. Incavata. Il lato destro della cassa toracica era squarciato. Le costole sul lato sinistro erano ancora a loro posto e lasciavano intravedere un polmone rinsecchito. Il suo viso non aveva più occhi, naso e labbra. Sembrava sogghignare. La ragazza sotto l'albero le restituì il macabro sorriso, ma lei non sembrò accorgersene. È logico, sciocchina, come può vederti e come può camminare? Una delle altre aveva ancora gli occhi. Erano vitri e spalancati. Avevano un'espressione fissa molto strana. Non aveva più palpebre. Ecco perché il mietitore doveva avergli le tagliate insieme ai seni. Al loro posto sul petto c'erano dischi rotondi e nerastri, tranne per un enorme squarcio sul fianco destro. Non sembrava essere stata mutilata dalle truppe. Possedeva ancora quasi tutta la sua pelle, ma appariva viscida e untuosa, ricoperta da uno strato di umore biancastro. La ragazza al suo fianco, invece, non sembrava possedere un solo centimetro quadrato di pelle. Era stata squogliata. Era nera dappertutto, tranne il bianco degli occhi e dei denti, e centinaia di puntini bianchi come se l'avessero cosparsa di riso. Ma il riso si muoveva. Il riso era vivo. Vermi. Anche l'ultima delle cinque ragazze che si avvicinavano di fronte a lei era nera, però non sembrava squogliata, bensì bruciata. Il suo corpo era una crosta carbonizzata che scricchiolava e trasudava umori che luccicavano al chiarore del fuoco. Assomigliava ben poco a un essere umano. Poteva essere stata plasmata col fango da un bambino ritardato che non l'aveva fornita di seni, di dita le mani ai piedi, di naso e orecchie, e che per fare gli occhi aveva conficcato due dita nella testa. La sua crosta produsse suoni di carta stropicciata e scricchiolante mentre si trascinava oltre il fuoco e alcune scaglie si staccarono. Un gruppetto vario pinto, pensò la ragazza manettata all'albero. Si domandò se una di loro avrebbe avuto tanto buonsenso da recuperare la chiave e aprire le manette, ma ne dubitava. A dire il vero non sembravano neppure rendersi conto della sua presenza. Tutte avanzavano zoppicanti e striscianti verso il mietitore, le cui urla ora stavano frantumando quella fragile forza che aveva permesso a Jean di starsi alla larga dalle strane manettate all'albero. Cercò di mantenere le distanze. Non ci riuscì. Fu risucchiata di nuovo dentro la ragazza nuda, con le braccia sospese. Provò un'improvvisa ondata di orrore e repulsione e di speranza. Qualunque cosa fossero quelle creature, erano anche loro vittime del mietitore. Il momento della resa dei conti. Lui stava ancora urlando e Jean lo guardò. Era a quattro zampe. La ragazza scottennata, nella stessa posizione di fronte a lui, gli aveva imprigionato la testa fra le mani. Gli stava addentando il cranio. Jean udì il suono di uno strappo vicido quando la ragazza staccò una ciocca di capelli e di carne. Lui ebbe un sussulto e scivolò all'indietro, trascinato dalla ragazza che aveva lanciato la pietra e da quella con la pelle vicida. Ognuna lo aveva afferrato per un piede. La ragazza scottennata lo seguì strisciando. Poi emise un grugnito e si fermò, cercando di raccogliere le pinze. La sua mano destra non aveva più dita. Zampettò inutilmente un paio di volte, pianucolando per la frustrazione. Poi sospirò quando riuscì a raccogliere l'attrezzo usando il pollice e le due dita rimaste sull'altra mano. In fretta, riprese a strisciare inseguendo la sua preda. Passò accanto a Jean. Una delle sue natiche era scomparsa, rosicchiata fino all'osso. Raggiunse il mietitore che urlava, allungò le pinze e le strinse intorno al lobo dell'orecchio, strappandolo di netto. A metà strada fragì nel fuoco, le ragazze gli lasciarono liberi i piedi. Tutte e sei li balzarono addosso. Lui si dimenò, si contorse e scalciò, ma quelli lo distesero su pino. Mentre alcuni lo tenevano fermo, altri gli lacerarono i vestiti, altri gli lacerarono la carne. Quella scotennata gli strinse la palpebra destra con le pinze e gliela strappò. Quella bruciata gli prese una mano e, aprendo la bocca nera, priva di labbra, cominciò a divorargli le dita. Nel frattempo, la ragazza senza un braccio saltellava come uno scheletro impazzito, con il polmone rimasto che rimbalzava dentro la gabbia toracica. Ben presto, la camicia del mietitore fu ridotta a brandelli. I pantaloni, i boxer, gli furono arrotolati intorno agli stivaletti da cowboy. La ragazza scotennata gli aveva strappato un'altra palpebra e, mentre lui urlava, si stava mettendo all'opera sul labbro superiore. Quella che aveva lanciato la pietra gli stava inginocchiata accanto e gli artigliava il ventre come se volesse arrivare le sue budella. Belle viscida gli staccò un capezzolo con un morso, lo masticò e lo inghiottì. La ragazza, che doveva essere stata scuoiata viva, gli si inginocchiò accanto alla testa, raccogliendo dal proprio ventre manciate di vermi e ficcandogli in bocca. Non più in grado di urlare, il mietitore tossiva e ansimava. Lo scheletro saltellante cadde sulle rotole spolpate, si chinò su di lui e richiusa i denti intorno al suo pene. Poi tirò, digrignando i denti. Il mietitore smise di ansimare e lanciò un urlo stridulo che eccheggiò come una spruzzata di aghi contro i timpani di Gin. La ragazza scotennata gli strappò il labbro, diede uno scrollone e le pinze e guardò il labbro volare via. Anche Gin lo guardò. Poi sentì il suo morbido plop contro una coscia. Gli restò attaccato alla pelle come una sanguisuga, sentì un'ondata di nausea, batte il piede a terra cercando di scrollarselo di dosso, ma quello rimase attaccato. È solo un labbro, pensò. E allora i conati si fecero troppo forti. Si chinò in avanti più che potè per non vomitarsi addosso. Un angolino appartato della sua mente era divertito, aveva guardato a cadaveri orribili, mutilati in modi spaventosi, orrori che non aveva mai visto prima neppure nei suoi incubi peggiori. Aveva guardato a quei cadaveri compiere atrocità innominabili sul corpo del mietitore. E nonostante tutto questo, il suo stomaco aveva retto. Adesso un labbro mi resta attaccato a una gamba, ed ecco che si aprono le cateratte. Almeno non si stava vomitando addosso. Solo un pochino di rimbalzo sulle caviglie. Finalmente i sussulti del suo stomaco cessarono. Aspirò profondamente aria fresca e si strizzò le lacrime dagli occhi. E vide la ragazza scotennata che la fissava. Le altre erano ancora occupate con il mietitore. Lui non urlava più. Gemeva e rantolava soltanto. La ragazza scotennata abbassò di colpo le pinze, che si aprirono a forza un varco fra i denti superiori del mietitore. Lei li conficcò più a fondo nella bocca e parzialmente giù nella gola. Le lasciò là e cominciò a strisciare verso Jean. «Fagliela pagare!» sussurrò lei. «È stato lui!» Poi Jean pensò. «Forse vuole aiutarmi!» «Vuoi prendere la chiave per le manette? È nella tasca dei suoi pantaloni!» La ragazza non parve neppure sentirla. Si fermò davanti alla chiazza di vomito e chinò il viso. Jean udì uno schioccare di lingua e per un attimo temette di vomitare di nuovo. La ragazza sollevò la testa, alzò gli occhi verso Jean, si leccò le labbra gocciolanti e strisciò in avanti. «No! Torno indietro!» La ragazza spalancò la bocca. «Cristo!» Jean mollò una ginocchiata in fronte alla ragazza. La testa cadde all'indietro e la ragazza crollò a terra. Jean avvertì un'ondata di gelo. Si sentì rattrappire la pelle in tutto il corpo. Il suo cuore cominciò a martellare. «Non si accontenterà di lui. Io sarò la prossima!» La ragazza scottennata, al cui torace era un guscio vuoto, rotolò su un fianco e cominciò a rialzarsi. Jean spiccò un salto. Si afferrò al ramo dell'albero con entrambe le mani. Spinse in avanti le gambe e cercò di raggiungere il ramo, ma non aveva abbastanza slancio. Il suo corpo cominciò a oscillare avanti e indietro. Alla nuova oscillazione in avanti alzò ancora le gambe, cercando di trasformarsi in un pendolo che a ogni passo aumentasse l'altezza delle sue oscillazioni. Al terzo passaggio le sue gambe si uncinarono intorno al ramo secco e scortecciato. Si sollevò fino ad abbracciarlo e rimase attaccata là. Poi ruotò il capo e vide la ragazza scottennata che strisciava nuovamente verso di lei. Jean non l'aveva mai vista in piedi. Se non riesce ad alzarsi sono salva, ma le altre potevano reggersi sulle gambe. Per il momento erano ancora occupate con il mietitore, a scavare dentro di lui, a mordere, a strappare la sua carne con i denti. Lui rantolava intorno alle pinze e lanciava suoni simili a squittii. Mentre Jean guardava, la ragazza carbonizzata si accucciò ai bordi del fuoco e infilò quanto restava delle sue mani fra le fiamme. Quando si rialzò, fra i moncherini reggeva un tizzone ardente. Tornò barcollante verso il gruppo, si chinò e diede fuoco ai pantaloni del mietitore. I pantaloni arrotolati intorno agli stivaletti si infiammarono in pochi secondi. Il mietitore ricominciò a urlare, si divincolò e scalciò. Jean rimase sorpresa nello scoprire che in lui restava ancora tanta vitalità. La chiave, pensò, dovrò frugare fra le ceneri, se vivrò tanto a lungo. Jean prese scivolare a forza di braccia lungo il ramo. Si graffiò le braccia e le cosce, ma continuò ad avanzare pochi centimetri per volta. Il ramo cominciò a incurvarsi. Scricchiolò. Lei si spinse ancora oltre. Udì uno scricchiolio più forte. Poi fu arrestata da un ramo bianco come un osso che le bloccò il braccio sinistro. No! Si spinse più avanti e colpì con il braccio il ramo. L'urto lo scosse appena. Alcuni rametti secchi alla sua estremità tremarono e caddero. La diramazione aveva un diametro di circa sette o otto centimetri nel punto in cui si innestava nel ramo principale. Un po' più in alto si assottigliava parecchio e sembrava più facile da spezzare, ma lei non poteva arrivare fin là, non con i polsi uniti dalla corta catena delle manette. Quel ramo le sbarrava al passo come il braccio di uno scheletro deciso a tenerla bloccata finché i suoi compagni non avessero finito con il mietitore e potessero occuparsi di lei. Ginso levò la testa e strinse il ramo fra i denti. Morse con forza disperata il legno secco e lavorò di mascelle. I suoi denti sembrarono a malapena intaccarlo. Abbassò il capo, sputò schegge e sporcizia e girò gli occhi. Il mietitore non si muoveva più e non emetteva alcun suono. Dalla zona nerita dove i suoi pantaloni avevano preso fuoco si levava un fumo pallido. La ragazza carbonizzata che li aveva incendiati stava reggendo un braccio mozzato dell'uomo sopra il fuoco. La ragazza viscida e senza seno cercava di infilarsi uno dei suoi stifaletti. La ragazza scuoiata, ginocchioni accanto alla testa del mietitore, gli aveva tolto le pinze dalla bocca. A prima vista gin pensò che si stesse pizzicando, poi vide che uno alla volta strizzava con le pinze i vermi che le infestavano il ventre. La testa di quella che aveva lanciato la pietra era sepolta nell'addome squarciato del mietitore. Quando si sollevò, dai denti le penzolavano spire d'intestino. La ragazza senza un braccio se ne stava distesa fra i resti aneriti delle gambe del mietitore, dilaniando con i denti la cavità che un tempo aveva ospitato i suoi genitali. Benché lui fosse apparentemente morto, le sue vittime sembravano ancora decise a martoriarlo, almeno per il momento. Torcendo il collo, Gin vide la ragazza scottennata proprio sotto di lei. Era in ginocchio, con le braccia sollevate e artigliava l'aria con quel che le restava delle mani. Non può raggiungermi, si disse Gin, ma le altre? Non appena avranno finito col mietitore, vedranno questa puttana qui sotto e poi vedranno me. Se lei se ne andasse, vattene di qui. Gin avrebbe voluto gridarlo, ma non osò. Le sembrava quasi di vedere le altre che giravano il capo al suono della sua voce. Se solo potessi ucciderla. Già, bella pensata, devo fare qualcosa. Gin si strinse con forza al ramo e diglignò i denti. Non provarci, pensò. Non le faresti neppure male e saresti alla portata delle sue mani. Ma forse un bel calcio alla testa potrebbe scoraggiarla. Non ci conterei molto. Gin staccò le gambe dal ramo. Sentì l'aria sfiorarle la pelle sudata, mentre scalciava come se fosse sul punto di annegare e tentasse di risalire verso la superficie. Il tacco di una sua scarpa colpì qualcosa. Lei sperò che fosse la faccia di quella puttana. Poi iniziò l'oscillazione ascendente e la vide. Si stava girando sulle ginocchia e annaspava ghignante verso l'alto. Gin scalciò più forte che poteva mentre le sue gambe tornavano ad abbassarsi. La punta della scarpa colpì la ragazza scottennata la gola, la sollevò di peso e la scagliò lontana. L'ho presa! Gin penzolò appesa per le mani, cercando di riacquistare slancio per raggiungere di nuovo il ramo. Fallì il primo tentativo e perse anche la presa. Lanciò un grido quando l'acciaio delle manette le penetrò nei polsi. I suoi piedi toccarono il terreno. La ragazza scottennata rotolò su un fianco e strisciò verso di lei. Gin spiccò un salto, afferrò il ramo e cercò di sollevare le ginocchia, ma non fu abbastanza svelta. Le braccia della ragazza si avvinghiarono le sue caviglie, poi cominciarono a tirarla, a cercare di farla scendere più in basso, a salire lungo i polpacci, ad arrampicarsi su di lei. Gin si dimenò e si contorse, ma non riuscì a scrollarsi di dosso la ragazza. Le sue braccia cominciarono a cedere la presa intorno al ramo ad allentarsi. Lanciò un grido quando i denti le morsero una coscia. Con uno schianto secco il ramo si spezzò a metà lunghezza fra Gin e il tronco. Cadendo, lei spinse di lato il ramo, le colpì una spalla quando toccò terra, le ginocchia in avanti, sopra la ragazza. Il peso spinse Gin in avanti, schiacciando l'altra sotto di sé. Anche se adesso la ragazza non le stringeva più le gambe, Gin sentiva la sua testa agitarsi sotto la coscia. Il corpo mutilato sussultava e si dimenava sotto il ramo, ma i denti non mollavano la loro feroce presa. Poi ottennero il loro boccone di carne e si staccarono. Afferrando il ramo, Gin se lo tolse di dosso, usando la spalla per fare leva. Sentì il legno sollevarsi dalla schiena e dalle natiche. L'estremità scheggiata premeva sul terreno un metro e mezzo davanti alla sua testa. Gin cercò di trascinarsi in avanti lungo il ramo, premendo con le ginocchia sulla ragazza sotto di lei. La ragazza ringhiò. Le sue mani si strinsero intorno alle caviglie di Gin, ma la presa era debole a causa delle dita mancanti. I denti schioccarono, graffiandole la pelle sopra il ginocchio destro. Gin tirò indietro la gamba e scalciò. I denti della ragazza si chiusero a vuoto. Poi Gin riuscì ad alzarsi, usando come gruccia il ramo spezzato. Tenendo sollevata l'estremità scheggiata, avanzò barcollante di qualche passo per allontanarsi dalle braccia della ragazza e vide le altre che avanzavano, tutte quante all'infuori di quella scheletrica e senza braccia che stava ancora distesa fra le gambe del mietitore. «No!» urlò Gin. «Lasciatemi in pace!» Avanzarono vacillanti verso di lei. Quella carbonizzata reggeva il braccio mozzato del mietitore con una clava. Quella senza seni ora portava i suoi stivaletti. Aveva le braccia levate, già protese verso Gin, anche se distava ancora qualche metro. Quella che aveva lanciato la pietra aveva trovato un'altra pietra. Quella scuoiata viva si avvicinava continuando a pizzicarsi i vermi con le pinze. «No!» urlò ancora Gin. Si chinò. Afferrò il ramo più in basso. Lo sollevò aiutandosi col fianco e ruotò su se stessa, facendoli compiere un mezzo giro davanti a sé. Il droncone di ramo spazzò il terreno di spieco, con le dita ossute di legno che si spezzarono scricchiolanti falciando i cadaveri. Tre di loro vennero gettati a terra. Un quarto, quello della ragazza carbonizzata, si spostò all'indietro per evitare il colpo, incespicò nel torace del mettitore e annaspò nell'aria. Gin non vide se era caduta, perché il peso del ramo le stava facendo compiere un intero giro su se stessa. Un rametto colpì il viso della ragazza scotennata che strisciava verso di lei. Si spezzò con uno schiocco e volò via. Poi la ragazza scotennata ricominciò a inseguire Gin, mentre le altre erano a terra. Tutte all'infuori della lanciatrice di pietre. La prima volta Gin l'aveva mancata, troppo lontana. Adesso lei aveva sollevato il braccio, pronta a effettuare un nuovo lancio. Gin, ruotando, lasciò libero il ramo. Il legno scortecciato le graffiò al fianco e il ventre. Il ramo si staccò da lei come una gigantesca lancia fronzuta. Ormai libera dal suo peso, Gin barcollò. La pietra le fischiò accanto all'orecchio, cadde in ginocchio, di fronte a quella che strisciava, che arrancava verso di lei giamendo, quasi sapesse già di essere sconfitta. Conficcando entrambi i pugni nel terreno, Gin riuscì a risollevarsi, fece due passi rapidi verso la ragazza che strisciava e le mollò un calcio al viso. Poi indietreggio vacillando. Si girò. La lanciatrice era a terra, con le braccia che naspavano nel sviluppo di rami morti sopra di lei. Le altre incominciavano a rialzarsi. Gin corse in mezzo a loro, i polsi ammanettati alti sopra la testa, guizzando e schivando, mentre loro naspavano, abbrancavano, si abbracciavano, si sbracciavano, verso di lei. Poi se le ritrovò alle spalle. Annel mietitore, la cosa senza braccia che masticava ancora in mezzo alle sue gambe. Devo trovare la chiave, pensò. Partendo di corsa nella loro direzione, si rese conto che le manette non avevano importanza. Non le avrebbero impedito di guidare. La chiave era ancora nel quadro dell'auto. Superò con un salto il mietitore e si fermò accanto al suo corpo. Ansimante, si chinò e sollevò una delle pietre intorno al fuoco. Anche se il calore le bruciava le mani, la tenne alta sopra la testa. Poi si voltò. I cadaveri stavano arrivando, barcollanti e striscianti, sempre più vicini, ma non così vicini. «Questa è per la numero otto!» urlò e calò la pietra su ciò che restava del viso del mietitore. La pietra colpì con un suono morbido e al tempo stesso scricchiolante. Non rotolò via. Rimase piantata sul suo viso come se avesse trovato un nido su misura. Gin la premette con un calcio, conficcandola più a fondo. Poi si girò. Scavalcò il fuoco con un salto e corse attraverso lo spiazzo, verso l'auto in attesa. Finisce così anche questo racconto intitolato «La mensa», scritto da Richard Lehmann. Mi è piaciuto abbastanza. L'ho trovato molto splatter e io odoro lo splatter. Mi piacciono anche le storie di tortura. Sì, è un mio lato un po' malato. Fatemi sapere voi invece cosa ne pensate di questo racconto appena letto. Scusate se oggi non ero molto in forma con la lettura, ma sono parecchio stanco. Vi saluto e vi invito al prossimo video di No Edit in cui leggerò 50 sfumature di grigio. Ciao!